Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi vi faccio vedere come faccio in casa il pane. Questa non è una mia ricetta, ma è una ricetta che ho visto fare da Benedetta Rossi sul suo canale e ho deciso assolutamente di provarla e devo dire che è fantastica. Ovviamente i tempi di lievitazione io li ho personalizzati. Allora, prima di tutto vi occorrerà 400 grammi di farina a zero e circa 2 grammi di lievito secco, quello per fare il pane. All'interno ci vado a mettere anche un cucchiaino di zucchero e 1-2 cucchiaini di sale, va un po' a vostro gusto perché a me per esempio piace salato il pane. E poi all'interno ci vado a mettere 300 grammi di acqua e inizio a mescolare fin quando si creerà una palla, non perfettamente liscia ma irregolare ovviamente. Una volta creata questa palla andate a coprire l'impasto e lo lasciate riposare per circa 10 minuti. Dopodiché riprendete l'impasto, rimescolate ancora e lo lasciate riposare a 13 minuti. Quindi fate questo procedimento per tre volte totale, quindi per un totale di 30 minuti. Dopo 30 minuti questo impasto andrà messo in frigo dalle 6 alle 24 ore, quindi potete scegliere voi se tenerlo di più o di meno. Io per esempio ho notato che tenendolo in frigo 16 ore il pane viene molto più leggero e quindi ci piace così. Dopo 16 ore in frigo vado a mettere molta farina sul piano di lavoro perché l'impasto sarà molto appiccicoso e lo vado a stendere in questo modo creando una sorta di rettangolo però senza schiacciare troppo l'impasto perché dovremmo andare a fare le cosiddette pieghe da rinforzo. In questo modo come state vedendo appunto nel video. Fate questo procedimento un'altra volta, dopodiché lasciate riposare l'impasto. Deve lievitare a temperatura ambiente per circa tre ore. Lei nel video lo lascia lievitare un'oretta, un'oretta e mezza, ma ho notato che lasciandolo di più viene un po' più alto. Dopo tre ore accendete il forno a 220 gradi e metteteci all'interno una pentola adatta per il forno. Io ho preso questa pentola da Casanova che ha i manici in silicone, però li ho protetti con della carta di alluminio per evitare che si rovinassero. però mi raccomando non ci devono essere manici né in plastica né in legno. Prendete l'impasto che avrà lievitato tre ore, lo mettete all'interno della pentola ben calda e lasciate cuocere il pane sempre a 220 gradi per 30 minuti a forno ventilato mi raccomando. Dopo 30 minuti togliete il coperchio e lasciate cuocere altri 20 minuti. se lo volete più umido il pane all'interno potete non mettere ventilato ma lasciare il forno sul statico. Questo è il risultato. Per esempio quest'ultimo io l'ho lasciato cuocere con il forno statico e quindi all'interno è venuto un po' più umido. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se provate a fare il pane fatemelo sapere già nei commenti se l'avete già fatto insomma voi come procedete. Io vi saluto e vi mando un bacio e ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!